Se le porte girevoli del mercato si sono ufficialmente chiuse, quelle dei club si spalanca nei nuovi acquisti che dalla prossima giornata andranno ad arricchire le rose delle squadre di Serie B, che meglio si sono giocate le chance di compravendita. Tripletta per la Salernitana che sul gong si porta a casa il centrocampista della Rocca dal Perugia, Ronaldo della Lazio e Perico dal Cesena. Ma non solo, i Granata hanno tentato fino all'ultimo di strappare Buzzegoli dalle grinfie del Benevento. I sanniti non hanno mollato il colpo e si sono aggiudicati il regista ex Novara, tanto richiesto da Baroni. Rinforzi anche per il Verona che ha acquistato proprio dalla Salernitana Gennaro Troianiello e Nicolò Cherubin, il cui cartellino è stato rilevato dal Bologna. Porto chiuso invece per Donna Rumma, incedibile secondo Fabiani in questa sessione di mercato. Sbarca in Liguria, sponda a spezia il Diablo Granoce al pare di Alessandro De Iola del Cagliari. Fondamentale per lo scacchiere di Mimmo Di Carlo che però dovrà fare a meno di Acampora ceduto al Perugia. Il campione del mondo Cristian Zeccardo invece giocherà a Chiavari nell'Entella, prossimo avversario dei Lupi. Acquisto in prospettiva per l'Ascoli che in tarda serata è riuscito ad ingaggiare Andrea Fabilli, 19enne di ottime speranze, scuola Juve.